Siamo a Moiola, in un'azienda agricola dove vengono allevate le vacche di razza bovina piemontese. Splendide vacche, una splendida razza, dove normalmente però non vengono più munte. Invece qui le vacche vengono munte non solo, ma il latte prodotto dalle vacche di razza piemontese viene trasformato in formaggi. Un allevamento che guarda molto al domani attraverso la trasformazione diretta. Io direi che guarda anche agli eri perché abbiamo voluto mantenere questa tradizione che per onestà devo dire abbiamo anche integrato con una parte di pezzate rosse che stiamo già anche mungendo a macchina. La mungitura sua piemontese l'abbiamo continuata perché è un latte di qualità e quindi abbiamo voluto portare avanti questa con una tradizione di famiglia sia da parte mia che di mia moglie, sia da parte di allevamento, sia da parte di trasformazione, entrambi siamo di origine di famiglia di Margari. E poi praticamente da quando ci siamo trasferiti qua a Moiola, cinque anni fa, dove abbiamo trovato questa azienda qua, l'abbiamo acquistata, abbiamo deciso di trasformare il nostro latte tutto l'anno e non soltanto più durante il periodo d'alpeggio, ma fare una trasformazione che riguarda tutto il periodo dell'anno. Quindi il latte che produciamo noi in azienda viene interamente trasformato e venduto qua in azienda. Voi fate l'inverno qui a Moiola e poi d'estate andate in Alpeggio, mi dicevi, dove andate? Noi siamo moglie Eres, che è nel parco del Mercantura, in territorio francese. Praticamente risaliamo la Valle Stura, poi passiamo oltre i confine e non è il primo e il secondo alpeggio. Sono due giorni di marcia, grosso modo, con gli animali. E anche il latte che mungete in Alpeggio lo trasformate così come trasformate quello monto qui, durante l'inverno? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro il latte è trasformato in Alpeggio è una cosa che abbiamo sempre fatto sia io che lei, ma anche le nostre famiglie prima di noi. La differenza è che adesso abbiamo cominciato a trasformare anche qua. L'alpeggio è sempre stato... il latte è sempre stato trasformato, sì. Sempre trasformato e poi molto apprezzato perché il turismo, le passeggiate, eccetera. Ecco, allora qui voi avete anche un punto vendita aziendale. Sì, noi qua vendiamo praticamente interamente qua in azienda e ci è voluto un po' di tempo per farci conoscere. Comunque, come tutte le cose, col passaparola adesso abbiamo preso, diciamo, un po' piede con le vendite. La gente ci conosce, ci cerca. Sono prodotti che comunque sono cercati anche in questo periodo di pandemia. Anzi, secondo me, nell'ultimo anno c'è stata anche un'attenzione particolare verso un certo tipo di realtà, di produzioni, diciamo, più lente o più locali. Io dal punto di vista delle vendite dirette non siamo stati, diciamo, penalizzati in questo periodo. Forse, al di là dell'aspetto economico, quello che ha gratificato veramente è che c'è stato un interesse da parte della gente che prima forse non era così profondo, era forse un po' più superficiale. Quanti animali avete? Sono un centinaio di capi. A oggi contiamo una settantina ancora di piemontesi, una trentina poi di pezzate rosse tra adulti e piccolini. I formaggi principali, almeno, che fate, insomma? Beh, allora, intanto facciamo tutti i formaggi a latte crudo, che è veramente la filosofia di base della nostra azienda. Il fatto che il latte crudo è quello che poi ci dà una corrispondenza diretta tra quello che è il territorio in cui operiamo e il prodotto finale. Facciamo tutti i formaggi stagionati e semistagionati, per il semplice fatto che non facendo mercati non abbiamo puntato sul fresco, ma è più una cosa logistica nostra che non una scelta imprenditoriale. Abbiamo differenziato abbastanza la produzione, oggi siamo a sette tipi di formaggi diversi, stagionati. Quello che c'è qua davanti a noi è il classico nostrale, che è proprio il formaggio, diciamo, principe di tutti i margari, qua specialmente della provincia Granda, e questo ovviamente non poteva mancare qua. E poi abbiamo fatto altri tipi di formaggi semistagionati, un po' più dolci, un po' più morbidi, oppure ci sono anche degli erborinati. Abbiamo cercato di variare un po' anche per dare al cliente o a chi viene a conoscerci una scelta diversa, che non sia solo un monoprodotto. Certamente. Ecco, oggi voi fate parte del gruppo Montagnam. Cosa vi aspettate, cosa pensate che si possa ottenere attraverso questo gruppo, che ha dei grossi obiettivi a livello di promozione, di conoscenza anche dei produttori e dei prodotti che fate? Io dico che Montagnam, ancora prima della promozione, è proprio una condivisione di valori. Nel senso che una serie di produttori che agiscono su un territorio hanno deciso di unirsi per dar valore al territorio e per far sì che ognuno sia un valore aggiunto per l'altro. Quindi è una condivisione di valori, anche di un certo stile di produzione. E poi ovviamente c'è anche tutta la parte commerciale, il fatto di poter garantire attraverso un marchio un disciplinare un certo tipo di prodotto e il fatto di poterlo far riconoscere, di non essere un, diciamo nel nostro caso, un semplice formaggio che quando è su un banco non è riconoscibile, ma è riconoscibile attraverso questo marchio che, diciamo, l'obiettivo non è tanto quello di andare a identificare me, ma andare a identificare un territorio come la Valle Stura. Ecco, tutto questo per dire che si guarda al domani a quelli che potranno essere anche momenti di occupazione e comunque di rendita economica non indifferente, insomma. Sì, sì, ovviamente. Poi secondo me queste realtà qui, come le nostre, che come tutte le realtà, devono vivere facendo economia, la grossa difficoltà che hanno in questo momento è quella di farsi conoscere e di farsi riconoscere e Montagnon forse serve proprio a questo. Bene, allora noi vi facciamo tanti auguri, sperando che, insomma, non ne avete bisogno perché già siete conosciuti, però credo che, insomma, sia veramente una bella realtà sia la vostra azienda che il gruppo del quale fate parte. Sì, certamente, vi ringrazio e speriamo che questa cosa qui abbia un bel futuro roseo e soprattutto il territorio, tutto insieme.